I pericoli della rete, minori a rischio. E' il tema del convegno tenutosi ieri pomeriggio nella sala teatro dell'Istituto De Nicola Sasso di Torre del Greco. Un'iniziativa fortemente voluta dalla scuola che intende portare avanti una progettualità su questa tematica. Abbiamo voluto fortemente questo evento che è l'inizio di una progettualità che voglio, insieme al mio dirigente scolastico, la professoressa Alessandra Dallarico, portare avanti. E' solo l'inizio perché vogliamo che gli alunni, i genitori e i docenti abbiano sempre più informazioni dei pericoli che provengono dalla rete e che molto spesso sono subdoli. E quindi proprio perché è tutto un mondo molto sommerso è necessario che venga fuori attraverso queste esperienze di cui abbiamo dato inizio con questa conferenza di tematica. Quali consigli possiamo dare ai genitori? E' necessario sorvegliarli, esserci, essere presenti. I ragazzi ne approfittano delle nostre assenze. Non necessariamente dalla rete perché è vero sì che tutte le tecnologie ci vengono incontro per sorvegliare il loro operato su internet. Ma è importante, secondo me, che noi possiamo dare un esempio ed essere presenti nella loro vita in modo che non prenda il sopravvento, la solitudine e quindi che cerchino nella rete una compagnia. Esperti a confronto su un tema di grande attualità alla presenza di genitori ed alunni. Complimenti all'Istituto Nicola Sasso, alla preside Tallarico perché ci dà l'opportunità oggi di parlare di un argomento particolarmente sentito. E' chiaro che bisogna, diciamo, aumentare l'attività di controllo nei confronti dei ragazzi. Non bisogna assolutamente demonizzare internet perché ha rappresentato una straordinaria opportunità di crescita culturale e sociale. Chiaramente è importante che i ragazzi non vengano lasciati soli e soprattutto, diciamo, che non si sostituisca quello che è il rapporto relazionale social con il rapporto, diciamo, reale. I pericoli della rete sono tantissimi e riguardano tutte l'età, ma soprattutto la fascia adolescenziale. Noi come servizio sociale abbiamo percorsi di sostegno alla genitorialità, ma dobbiamo evidenziare che ad oggi rispetto a questo tipo di problematica abbiamo numeri pari quasi a zero. Questo non perché la nostra realtà sia lontana o comunque non toccata da questo tipo di problematica, ma proprio perché manca l'informazione, manca una rete. E oggi noi con la partecipazione a questo convegno vogliamo proprio renderci disponibile come servizio sociale a partecipare ad una rete condivisa con le forze dell'ordine, le istituzioni scolastiche, con il terzo settore, con le famiglie. Come servizio sociale siamo a disposizione per portare avanti quelli che possono essere percorsi di sostegno per le famiglie che hanno problemi con i propri figli, a una corretta gestione di quella che è la rete internet. I pericoli in rete sono dietro l'angolo, i ragazzi non devono essere lasciati soli. E' importante la comunicazione e la rete tra famiglie, forze dell'ordine, scuole, terzo settore. Io prima di essere un avvocato penalista sono madre di tre figli e quindi è da lì che bisogna partire, dal genitore. I pericoli in rete sono dietro l'angolo, i ragazzi oggi non si rendono conto che stando con il cellulare, magari nella propria abitazione, nella propria cameretta, sul lettino, pensano di essere soli, e invece stanno navigando nel mondo all'aperto, sotto gli occhi del mondo. Quindi devono fare attenzione a chi contattano, con chi parlano, ma soprattutto cosa fanno. Oggi il fenomeno più diffuso è quello del revenge porn, che è deleterio per i ragazzi e dannoso per un ragazzo vedersi le proprie immagini sparse in internet. Quindi bisogna ed è necessario che siano i genitori a controllare e tutelare i propri ragazzi, soprattutto nell'uso del mezzo informatico. La comunicazione è l'elemento essenziale, si parte dalla famiglia, si parte dalla famiglia che è la prima entità sociale, la prima società è quella che è la famiglia, poi c'è la scuola che non seconda adesso, poi ci sono le altre istituzioni, la polizia di Stato è vicina alle istanze dei cittadini, i nostri uffici sono costantemente aperti, e noi diamo sempre ogni risposta all'utenza che formula dubbi, viene a sporgere denunce su fatti reato, ma noi ribadiamo che la cosa importante è la comunicazione, è un canale costantemente aperto tra ragazzi e adulti, ad ogni livello.